Giovanni Maggi, Assessore dei lavori pubblici del Comune di Terni, c'è l'apertura dell'Infopoint accessi per i lavori del PNRR. Quali servizi saranno a disposizione dei cittadini? Sì, allora l'Infopoint è principalmente stato aperto per il PNRR, ma comunque sarà disponibile ad ascoltare tutti i problemi della zona, anche quelli tipi di problemi che esistono su zone che non sono interessate dal PNRR. Però in questo Infopoint serve per acquisire in tempo reale tutte le eventuali segnalazioni e le necessità che hanno i cittadini dicesi in ordine all'applicazione di questo progetto in modo da ridurre al minimo i risaggi che interesseranno questo borgo in questa fase in cui una serie di interventi sia pubblici che privati lo stravolgeranno per l'ammiglioramento e per i servizi di questa zona. All'interno dell'Infopoint ci sarà la possibilità di collegarsi direttamente con la sede centrale del Comune per la verifica di tutti i progetti anche più dettagliati e inoltre metteremo a disposizione un cronoprogramma sempre aggiornato dei lavori e per i principali lavori delle tabelle cartacee per coloro che non sono avvezzi all'uso del computer. I lavori del PNRR, ha detto lei, stravolgeranno l'abitato di cesi. Quali sono i principali lavori che verranno realizzati? Ce ne sono alcuni che sono fuori dal paese ma che comunque sono interessanti in relazione ai lavori outdoor e alla sistemazione della montagna, come ad esempio la sistemazione del campo, l'appis campo di calcio di cesi per l'allestazione di un punto di partenza per le attività outdoor e per i sentieri, una serie di sentieri in montagna, la sistemazione del tiravolo, la sistemazione dell'osservatorio astronomico e le mura castellane che riguardano la parte esterna. Nella parte esterna avremo la sistemazione del convento Peticca, il palazzo Stocchi, la sistemazione dell'ex teatro comunale, la sistemazione delle pavimentazioni, questo avverrà per ultimo, e altre altre serie di interventi che comunque saranno significativi per tutto il comune.